Ciao raga bentornati sul mio canale youtube piccola premessa ci tengo tutti quanti a rassicurarvi sul fatto che non è che non mi lavo raga semplicemente sto registrando una serie di video in fila quindi per quello l'outfit è sempre lo stesso perché nessuno me l'ha mai scritto ma prima o poi arriverà qualcuno che mi dice ma non ti lavi e allora vorrei evitare mettendo le mani davanti comunque scherzi a parte dopo il 4-2-3-1 che abbiamo analizzato nel prelai capro di ieri di Levi de Verde oggi voglio portarvi un altro video con tattiche e istruzioni abbiamo visto qualche tempo fa il modulo che utilizzavo per recuperare le partite ovvero il 3-4-1-2 tuttavia adesso ho scovato anche gironzolando un po' su twitter in base a quelle che erano le lamentere dei pro una combinazione di tattiche e più istruzioni che è allucinante per recuperare le partite veramente qualcosa di assurdo vi permette di fare un pressing che è come se fosse pressing costante ma senza andarvi a scaricare i giocatori con la stamina quindi occhio perché secondo me veramente meritano da far paura quindi senza perderci ulteriormente in chiacchiere direi che possiamo tranquillamente passare alla schermata di gioco eccoci qui quindi schermata di gioco dove vedete come al solito la squadretta che sto utilizzando perché nulla è cambiato visto che il video da registro mezz'ora dopo rispetto a quello precedente precedente andiamoci a vedere le tattiche le tattiche in questione sto parlando del 4-3-1-2 4-3-1-2 che come schieramento fondamentalmente ricalcano un po' il rombo stretto quindi il 4-1-2 il classico modulo ad albero di natale se vogliamo definirlo così quindi abbiamo un coc abbiamo le due punte abbiamo le due mezze ali abbiamo il cdc che cos'è che rende questo modulo però spettacolare per andare a recuperare le partite soprattutto negli ultimi 30 minuti a trazione totalmente anteriore è questa combinazione qua ragazzi andando a utilizzare pressing una volta persa palla pressing una volta persa palla che cosa fa? i tuoi compagni presseranno gli avversari per circa 7 secondi se non dovessi riconquistare palla in questo lasso di tempo i giocatori potrebbero essere fuori posizioni e si stancheranno prima quindi per quanto riguarda discorso stamina voi dite no si stancano uguale no perché il pressing costante invece dura di più e draina la stamina in maniera molto più grossa rispetto a pressing una volta persa palla inoltre insieme anche alle istruzioni e alle ulteriori tattiche che vi faccio vedere vi vado a spiegare vi permette di recuperare il pallone quasi sempre altissimi ampiezza 4 insomma non è una novità è solito parametro per evitare che la squadra sia troppo 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 larga perché tanto noi non è che ci serve vedete che i nostri giocatori di riferimento sono gli azzurri sono tutti quanti abbastanza a contatto con i giocatori avversari quello che a noi interessa in questo caso però è la profondità perché vogliamo essere il più alti possibile per cercare di essere ancora più vicini agli avversari e quindi far sì che questo pressing una volta persa palla faccia sì che la pressione lo spazio della pressione sia molto ridotto in maniera tale che possiamo andare a dar fastidio ai nostri avversari quindi profondità 8 se volete proprio una profondità a trazione giga anteriore 10 ma mi sembra un po' un po' esagerato ecco e senza un grossissimo senso per quanto riguarda stile di attacco anche in questo caso abbiamo equilibrato e abbiamo un'ampiezza 6 perché questo è già un modulo di per sé stretto quindi per evitare di fare troppa densità al centro utilizzerò un parametro un po' più alto per far sì che appunto riesca magari ad aprire con più facilità le difese avversarie per quanto riguarda giocatori in aria invece abbiamo parametro 6 in questo caso un po' più alto rispetto al solito anche qui perché voglio una maggiore frequenza di inserimenti da parte delle mie mezze ali soprattutto per quanto riguarda le istruzioni andiamo subito a vedere perché per quanto riguarda i terzini abbiamo resta dietro in attacco e sovrapponiti però io perché vado a fare questo? vado a fare questo per evitare di essere poi scoperto in maniera eccessiva però cosa vado a fare? vado ad applicare spesso e volentieri freccia sinistra più freccia in alto più freccia sinistra a terzini offensivi in maniera tale che di base restano dietro però quando voglio io me li chiamo a dare una mano alla manovra offensiva tramutando questo in un modulo a trazione veramente stra 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 anteriore per quanto riguarda il mediano abbiamo resta dietro in attacco, copertura al centro e intercettazioni aggressive intercettazioni aggressive è un parametro che ritornerà anche nelle istruzioni degli altri giocatori e si va a sposare perfettamente con quella che è la tattica del pressing una volta persa palla perché appunto i giocatori saranno molto più reattivi una volta che appunto perderemo il controllo del pallone e unito all'intercettazione aggressiva risulteranno molto molto fastidiosi per quanto riguarda la fase di impostazione dell'avversario quindi intercettazioni aggressive anche sulle due mezze ali le quali però hanno in questo caso anche avanza ed entra in area per il cross questo perché praticamente voglio attaccare con quelli che sono 5 giocatori ossia le mie due punte il cc più anche le due mezze ali perché in questo modo l'avversario che solitamente nel 90% dei casi anche se le difese a 5 ormai pullulano si ritroverà con 4 difensori e quindi noi saremo in superiorità numerica quindi trazione vi ripeto anteriore poi con due giocatori come pullit e cristiano ronaldo adattato mezzala insomma è come avere due attaccanti che si fanno ad aggiungere alla nostra manovra offensiva per quanto riguarda il cc invece assolutamente nulla e vi spiego perché non gli metto rimani avanti per evitare che si vada a creare una spaccatura troppo grossa tra due reparti io perda quello che è il ruolo essenziale chiave del trequartista ossia il punto di riferimento motivo per il quale non gli metto neanche entra in area per il cross per evitare che si ritrovi in area piuttosto che al limite dove appunto il suo ruolo è quello di smistare il pallone e non gli metto neanche svaria per evitare di trovarlo di destra o di sinistra quando io lo voglio al centro allora dici mettigli anche magari come impostazione rimane avanti proprio per questo perché rimane avanti e rimane anche in posizione no perché voglio che comunque una lievissima mano ogni tanto in difesa me la possa anche andare a dare qualora me lo vada io a portare a portare indietro quindi queste sono le istruzioni del trequartista per quanto riguarda le due punte invece abbiamo inserisciti alle spalle ho sbagliato ambappé e invece per quanto riguarda Neymar abbiamo fai salire la squadra fai salire la squadra che cosa fa? fa venire Neymar al ridosso dell'area di rigore in una posizione che non è quella del trequartista ma è un po' più arretrata è quella diciamo di seconda punta non so se ricordavate PES quando potevate modificare le formazioni proprio SP posizionato un po' indietro rispetto all'attaccante di riferimento e questo per me è fondamentale perché ricevendo il pallone in quella posizione neutrale può sia azionare la punta che si è buttata dentro sia servire il trequartista fuori per servire poi le due mezze ali che si buttano dentro può sia girarsi e concludere insomma vi si sbloccano tutta una serie di funzionalità tra virgolette che secondo me con doppio inserisciti alle spalle non riuscite a sfruttare al massimo difatti potrebbe crearsi spaccatura andando tutti e due a buttarsi dentro il trequartista ritrovarsi così con la pala a tre piedi e non sapere bene a chi darla quindi io utilizzo queste due istruzioni qui sulle due punte devo dire la verità che è un modulo che mi piace veramente tanto sto utilizzando per recuperare i game su twitter si sono lamentati tutti di sta tattica perché è veramente sbroccata l'hanno utilizzata anche in qualifica quindi provatela e fatemi sapere che ne pensate domani piccolo spoiler per chi è arrivato fin qui uscirà un video su come sconfiggere il 5-3-2 perché vi porto l'analisi dell'ultima partita della WL per la top 100 che lasciate perdere non immaginate quello che andremo a vedere quindi spoilerone per chi è arrivato fin qui e nulla raga io come al solito vi auguro una buona giornata vi ricordo di lasciare un like e un commento fatemi sapere che ne pensate di queste tattiche se conoscevate già insomma proverete vi ricordo in descrizione tutte le info per quanto riguarda le live giornaliere sulla piattaforma viola e nulla raga un salutone al vostro Riberoschi ciao ciao